non ho disabilitato il pesce rift drago grazie per il prime frate ciao bella te faccio sentire il durello ma no ma no ciao bella te faccio sentire il durello sui denti proprio kiss in che senso ma ciccio ma così addirittura così spinto cioè io ti avevo semplicemente grazie per i grazie grazie per i grazie ci sono i grazie per i cento lo vedi quel cento lo vedi quel cento lo vedi quel cento ho vinto mille euro al blackjack viva la figa di okane lo vedi quel cento hunting time so the information you should remember is that the emojis are not related to the multipliers ok so yeah you can just aim and shoot at one of these emojis and i really wish you all the best to hunt 300x which is the highest multiplier for you so let's reveal lo vedi quel cento lo vedi quel cento lo vedi quel cento lo vedi lo stai vedendo nei tuoi occhi ma come te chiami non grazie bisetti crib benvenuti stalla frate lui c'è luna conferma una qualsiasi ragazza dopo averlo fatto col k a sofia si non ha detto così sinceramente sofia mi aveva fatto tipo il segno della mangusta però magari lui c'è luna altre altre prospettive che cazzo ne so guarda che bellina che è guarda che caruccia a me i capelli porco dio che sbocco umano cioè tu lo dice già marco tocco nel senso probabilmente 2100 chi è stato il 2000 centesimo mostri che vi ingrazievi 245 probabilmente per scappare ci siamo imbattuti in un ascensore o abbiamo usato un ascensore per scappare che cazzo ne so frangis è stato il 2000 centesimo grazie fratellone possiamo fare 2200 in questa a me se mi fanno a destra a me se mi fanno due dribbling e gli esteri neanche inizio del calcio d'inizio che cazzo fai ma tu sei blu già prima lo sapete perché mi sembrano strani colori secondo me perché c'è sta la luce destriversa dietro in realtà e poi in realtà non l'ho rotta è solo che mi piace di più quando c'ho il coso girato da questa parte cioè in realtà questo non è il giro giusto della web quindi in realtà se fosse il giro giusto della web sarebbe rule blumut e quindi per guadagnare sul rule blumut e rifarlo diventato a blur l'ho girato al contrario però in realtà dovrei girare così e l'ha capito oppela la mi sa che ho sbagliato qualcosa mi sa che ho sbagliato signori for fuck's sake aaaaaa mannaggia alla puttana vabbè cried dai dai ma fai sboccare fai ma mi hai dato prima in quattro e poi in due eh ma aspetti io non t'aspecto più bello mi dispiace eh gabosium stava l'aspa ma gabosium easy clap vabbè signori datemi un gioco dove non faccio soldi mi date un gioco dove senti mi sono rotto i coglioni basta basta sono malato ciao ciao oh ieri hanno sbannato blu eh c'è vola oh 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 venti rosso ci mandiamo ma era rosso ma era rosso ma ha toccato palesemente il rosso cioè per terra ha preso